Ok! Allora, vi faccio vedere subito, dove c'è l'uomo, perché vedo anche i pompi e i pomponi, vi ricordo che ho solo un po' di arti, mi ricordo da qualche parte. Allora, dove c'è l'uomo, dove c'è l'uomo, ci stanno pari in più di voi, allora, l'uomo sta all'interno della coppia, ok? E l'insieme di l'uomo sta all'interno della coppia, in questo modo, lei torna, e che torna, sta così, che bella cosa! Allora, va bene, ci mettiamo tutti in questo modo, in questo modo, dai! Allora, l'uomo ha un cuore diverso, quindi ci tengo a dire che lei, in questo caso, è un uomo, oddio, un uomo solo, un uomo, va bene, ci siamo ragazzi! Allora, vi facciamo vedere, vi facciamo vedere i primi semici caldi, perché sono facili e facili. Noi fermi e li facciamo vedere, vedete, è semplice e semplice, 7, 8, apro, chiudo, apro, chiudo, Allora, gira, 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 gira e torna al posto. Ci muoviamo tutti insieme? Via! Nuovo l'interno, via! 7, 8, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, e allora gira, 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 gira e torna al posto. Con la mano, lei è sempre uomo, ma non è cambiata da noi, quindi quando ritorna, la mano sulla... Mette spalle tutte e due. Eh, a mano, a mano, a spalle! Lo so che la vuoi mettere più giù. Ci siamo, quindi quando torniamo in dire, facciamo questo. Ripetiamo tutto da capo, vediamo che è uscito a fuori, tutto da capo. Parola poco da un boi, non ci piacciono bene. Guardi, vi vediamo tutto da capo. Tutto da capo. Di fronte, mamma rovano, non rimane la salta, questa via. 7, 8, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, a giro. G, 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 e torna al posto. La mano sulla spalla, non so tacchino. Dietro, e riascia la sentita, c'è da qui. A questo punto, signora, le... Eh, sei marito. La roba tranquilla, la metteria è la mano, non si preoccupi. Sto state occupando nuova signorina là. A questo punto, entrambi, entrambi, maestro, chiudo, è. Partiamo, facciamo quattro passi, partendo con la gamba esterna. Fermi, vi facciamo vedere noi. 7, 8, passo e caccia. E sta fermo. 7, 8, passo e caccia, passo e caccia, passo e caccia, passo e caccia, passo e caccia. Sì, sì. Ci siamo con la gamba esterna, ci siamo? Vai, mi risulta da finito, via. 7, 8, passo e caccia, passo e caccia, passo e caccia, passo e caccia, passo e caccia. A questo punto, tutti insieme, senza bisogno di spiegarlo. Quattro passi dietro, capendo con le gambe sempre esterno, con la gambe esterna. Agli 8, 7, 8, 1, 2, 3, a 4. Traziamo la gamba e portiamo le mani. Vai. Ragazzi, non con leg. Proviamo dai passi avanti, via. Passo e caccia, via. Via, dupo la camera, non finiamo perché si stanno arruinando, ci vanno a parlare tutti. Vai, dupo la camera, 7, 8, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, giro, 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 giro e torno a posto. Passo e caccia, passo e caccia, passo e caccia, passo e caccia, dietro, 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 mani, fermi. A questo punto, finalmente, di liberi di noi, in quattro tempi, l'uomo va a prendere la porta davanti. Ok, in questo momento, capite se lo vuoi liberare, cambiate. Ok, quindi a mio 8, 4 passi avanti è andata a prendere la donna e soccacci lui. Ok, a domani aspettate. Ma non lo dà, ma la prega che sono strabito, ma tu non capisci. Via, di quattro tempi, caccia, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ma tu, che non abbia un uomo. Ma non lo dà, ma non lo dà, ma non lo dà, ma non lo dà, ma non lo dà. Fortuna così. Ok, tutto da capo e dopo andiamo perché sennò si annoriano i signori ai lati che non hanno voluto parlare. Tutto da capo fino a cambio per piano. Ok, ma signori a dove lo stanno. E io non so se è andata meglio, comunque a braccio. Vai, via, tutto da capo. Sette, 8 e apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e passo e calcio, passo e calcio, passo e calcio. Oh, poi, quiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo. Giro, giro, giro e torno a posto, passo faccio, passo faccio, passo faccio, passo faccio, dietro, 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 cambio, cambio, doppia, cambia, 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 vi dover allargare un pochino perché sennò lei è postretta con Roma, base, o signore trepsi anche noi stai a straffoli e non stare va aтовichi a tegan, DJ, non crea che una cosa, non so faccio, siamo, siamo, tieniamo in ponte, avvissere, avvissere, vissere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.